Musica Per favore, ingresso in campo Seconda giornata Super Cup Selezione contro New Generation Arbitro Santo Stanziano Giocatori al centro campo Passano a salutare avversarie arbitro un po' confuse Primo tempo tra Selezione contro New Generation Seconda giornata della Super Cup Scusate ragazzi, siamo in compagnia di Vincenzo Orlando e ci ha generato il risultato Il risultato sul 1.0 New Generation Goal di Criscolo Anche se Variale poteva fare qualcosa in più Visto a sentire da tutto il suo palo Ma comunque è meritatissimo il vantaggio di New Generation Partita bellissima Attenzione Gentile, ritorno di Capilano Gentile Bravissima uscita di Variale Ecco Silvestri Armando Cambia tutto per Molica Dietro per Biagioriccio Stop Palla per Molica Salta il primo uomo Non riesce il secondo Ancora Biagioriccio Ancora Biagioriccio Lo è di punta Prova a passarla per il bomber Marco De Vivo Armando Biagioriccio Silvestri Prova almeno due con il fratello Non riesce Il controviede della New Generation Biagioriccio Bravissimo qui Palla per Luca Silvestri Scuso da Di presso 1,2 Molica Silvestri Il sinistro Scuso da Palla di cuore Attenzione Biagioriccio Il destro Fai prova Luca Silvestri Bellissimo Il rispetto di Biagioriccio Ma anche la risposta di Angeli Angeli Ma cosa Palla per Gettia Il sinistro Armando Balla per Biagioriccio Con Molica Biagioriccio Con Luca Silvestri Bravissima Angeli Ancora Armando Balla per Biagioriccio Ancora per Silvestri Armando Viene chiuso da Deciara Sbaglia Biagioriccio Carissimo Gentile qui Di puta Luca Armando Armando Per Molica Sporta Balla Su fondo Amici Sforza Di po' Caramolica Prova il sinistro Andiamo a stopparla Grazie all'intervento della difesa della Niuji Comolica Destro Prima intenzione Sfattuto da Dekin Buona pensazione Rigore per la selezione Vediamo sul punto di battuta Rammando Vediamo sul punto di battuta chi si presenta Molica Vediamo sul punto di battuta chi si presenta Molica Ediziano seconda giornata della super cup selezionno contro new generation stato sul tra 1 per la selezionno per marco di dio che aveva provato la sponda per monica quando ne attenzione criscuolo credo il tiro fuori ma la vera luca silvestri palla per il fratello armando questo più pallone la mette di un in mezzo per luca il tiro di tiro di con criscuolo rosso in mezzo chiude tutto armando molica molica prova ma essio di brisco ecco devi lo che mantiene palla per campo 3 a 1 per la selezionno esce giovanni gentil con di brisco ferma tutto monica con la nu g con silvestre luca chiude tutto è chiara è chiara attenzione armando prova il numero numero grande ora ci riprova che forza voleva superare scotto mi stava dando un mosso scotto massimo un po' scotto eh decano non è lungo per criscuolo manegge palla viene dietro l'avversario scollo gesto di nervosi sandro sandro non c'è tutto non c'è tutto a bua posta il pallone di altro campo a non c'è l'avversario Balla dietro per Barriale Riccio Va via Balla per Mollica Mollica Dietro per Luca Silvestri Numero Ancora Luca Silvestri Trova il cassa in mezzo Trova Peggio Riccio Non riesce Poi c'è il pallo sul portiere Si dipenderà da una punizione Per la New G Ecco il portiere Scotto sul punto di battuta Lungo Grandissimo stop di Criscuolo Batteggio e palla Criscuolo Tacco Prova il tiro Ma va Alla stelle Possiamo chiudere il collegamento Io andiamo su toto New G1 È tutto Da Sama Sì 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 Sì